A Chieti oggi si presenta il piano di razionalizzazione delle amministrazioni statali e dei lavori per la nascita del primo Federal Building in Italia. La buona notizia resta il dietro fronte del governo sul caso dell'accorpamento delle prefetture. Ci saranno tre grandi poli al servizio della città di riorganizzazione degli uffici pubblici prevalentemente statali, uno destinato a un vero e proprio polo della cultura, un altro agli uffici finanziari, dei corpi di polizia, altre funzioni e poi la cittadella giudiziaria che va prendendo forma. Ecco, siamo molto oltre la politica d'Italia, siamo finalmente nella fase degli investimenti. Tra i primi a battersi contro la manovra del governo era stato proprio il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che aveva anche incontrato il ministro degli interni Alfano. Io credo che sia stato soprattutto la prima, il ripensamento del governo su un provvedimento che non può essere adottato in ragione di una scelta numerica, ne tagliamo 20, ne tagliamo 18, ne tagliamo 13. E poi credo che sia valsa, soprattutto per la nostra di prefettura, proprio questa organizzazione che come città ci siamo dati e come uffici per i feci dello Stato è stata data alla presenza sul territorio che indubbiamente ha fatto riflettere il ministero, in particolare dell'interno, sul fatto che forse Chieti non meritava l'accorpamento, essendo un progetto pilota proprio per la soluzione al problema dei costi degli uffici per i feci dello Stato. Il rischio però non sembra scampato del tutto, così come ha spiegato anche il prefetto di Chieti. Adesso bisognerà vedere nel 2017-2018 cosa accadrà in realtà. Sicuramente ogni pausa che possa consentire una riflessione quanto più approfondita è benvenuta, ma questo non è l'interesse della prefettura in quanto tale, ma della prefettura in quanto istituzione. Dicevo prima con dei colleghi di altri uffici che la ragion d'essere della prefettura come di altri uffici analoghi è quella della prossimità al territorio. Nei momenti in cui venisse meno la prossimità al territorio probabilmente avrebbe meno anche l'utilità di un istituto così importante.